Non c'è nulla di più grande e di più importante dei vecchi. I vecchi, quando sono lucidi, non possono che essere per noi degli esempi. E quindi non può che commuovere e muovere la vicenda di Carlo Gilardi, di cui lei erano parlato e vedo che il sindaco di Germanedo è andato a trovare e a garantire con la sua presenza che sia liberato da un carcere che è una casa di riposo, un uomo che non ci vuole stare e che si può mantenere. Nessuno può decidere per la vita di un altro. Non ci sono avvocati di sostegno o figure femminili che devono decidere cosa fa un uomo libero. Deve essere liberato. Andrò io personalmente a Germanedo a portarlo con me. E non c'è barra e sbarra che tenga. Sarò a Germanedo per liberare un uomo libero e un vecchio che vale più di tanti giovani inutili e incapaci. Di gran lunga più bravo il Gilardi, questo uomo di lucida intelligenza, del ministro Conte. Voglio Gilardi al governo e Conte al cesso. Ricoveriamo nell'RSA Conte e questo governo di incapaci che ci tengono in casa e liberiamo dalla barra e dalle sbarre Gilardi.